La reclame Amare la stessa cosa Su uno sfondo bianco, in primo piano, vediamo in posa un paio di gambe femminili. Sono nude. Svettano sopra un paio di decolte nere, attacco alto, aperte in punta. Sono fotografate nel lato di camminare su una scrivania. Lo scatto ritrae solo la parte inferiore degli arti. Dal ginocchio in giù. In secondo piano, tra le gambe della donna, c'è un uomo biondo e giovane, in tenuta d'ufficio. È seduto alla scrivania, dove le gambe della donna appoggiano. Con aria sbalordita, getta gli occhi verso l'alto, abbassando gli occhiali da vista. La bocca è semi-chiusa, come volesse pronunciare un'esclamazione. La traiettoria del suo sguardo punta al corpo femminile. Sotto la gonna. In alto, il claim. Più in basso, a sinistra, capiamo che di un prodotto si tratta. Un antivirus per il computer. Claim. 110 milioni di persone amano la stessa cosa. Cliente. AVG. Internet Security. Agenzia. Naper Multimedia. In alto, 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 in alto. Grazie a tutti.